mangeremo in tutto questo tempo vero mangeremo libero libero deportati passati imbani faccio imbani e faccio imbani sempre questi vanni cosa è stato questo qua costava un po di meno perché non mi sono rimasti i soldi per gli optional è carino non è non è quello che ho orso carino dai ti piace ma dai sì dalla mia telecamera tipo c'è già l'alba se si è proprio trash non è trash aereo trappos buongiorno buongiorno ludovito Benvenuto in Alaska Vai Oaks Più destra sinistra più che avvicinarti E' un po' di bambi Gatti Si ci sto dando la cartina E' un po' di me E' un po' di uita E' un po' di uita Gatti Chiunghi È un po' di Cosa a sinistra non c'è nessuno dovete venire i più centrali voi due dai vai 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 siete proprio rumeni porca troia va si si no ti lo riprende lo riprende bro rilasato una piccola intervista dopo de vlog ce sa facem am bagat 2 clipuri bomba bomba unul era pe cale sa nu mai terminam l-am terminat chiar acolo noroc ca am gasit o padure sinistra sa fumam acolo fratele non vi cu aici cel mai clip al resto roma facem multa treaba dell'auto pain intorcimento giri roschi stati nelle borse yeah 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 non fammi dei calzini sporchi è piaciuta l'esperienza è piaciuta l'esperienza è piaciuta l'esperienza non lo vedo per ora si eccolo lì confermo quel ragazzo si lì si quello che sta guardando il cellulare si sono pentiti dell'affare si sono pentiti l'hanno rilasciato ecco ma davvero ho dovuto riparare l'autodromo si si avevo raccontato la storia è inutile tirascono indietro queste finte scuse ma non hanno finte storie e abbiamo detto della kriptonite ah? nooo non ho tenuto un po' per colpa di un'altra Mierda Niente, c'ho un po' di kriptonite nello zaino Se non vi cos'è, sennò sviene Tuttante devi dare una dose di kriptonite Ci sono straniti, capite? Per davvero? Non puoi capire che quella è uscita con la bionda Ci ha parlato solo il rumeno, ma ci ha parlato così chiaro Cazzata fragica Che ha detto? Cazze in mani non trovo Hai trovato uno dei puffi? Non vuole, non ce l'ho Feliz Gboard La potenzione dell'aereo è quest'ora, fratello Si fa, eh È fuori orario La differenza tra come siamo partiti, non lo so adesso Sopra un barbone da meravigliare a termini Ok Andiamo, man Andiamo Roma Benvenuti Roma, baby Sei ristotto Oh, ma pancato oddio qua c'è incredibile, sta a sudà già Nuova a Roma, dopo una dura e intensa giornata di lavoro Roma Bucharest, Bucharest Roma, siamo partiti alle 3 di mattina Torniamo alle 11 e 20, circa mezzanotte Due video in meno di quattro ore Yeah Record, eh quasi Abbiamo fatto anche un cambio termico da 10 gradi proprio Chiaramente autista privato NCC Buonasera C'era ai ghiabbi, no? No, in destinazione del Ludicosaus Il nostro viaggio finisce qua Adic, Drunus is terminate Damn! Gang, I did one life on set Ciao